E' morta all'età di 65 anni Paola Mazzalorso, esercente del centro storico di Sulmona. Una notizia che piomba sulla città come un fulmino al ciel sereno e ha lasciato tutti nello sgomento e nella tristezza. Paola è morta all'ospedale di Sulmona e solo lo scorso mese di ottobre aveva ottenuto, assieme alla sorella Marina, il riconoscimento nazionale per i 90 anni di attività dell'ottica Mazzalorso che lei portava avanti con spirito di abnegazione. Una delle colonne portanti del commercio cittadino, sempre in prima linea per la città e il suo centro storico. Non a caso lo scorso primo marzo era tra i promotori di quella protesta massiccia dei commercianti che marciarono da Piazza Tresca fino a Palazzo San Francesco. Ma lei non ha mai remato contro nessuno, tant'è che si è sempre spesa per lo sviluppo e la crescita del cuore pulsante della città, Così Paola definiva il centro storico e proprio per questo qualche anno fa fondò l'associazione Sulmona Facentro della quale era presidente. Allora cerchiamo di rivitalizzarlo, di illuminarlo, di metterci qualche cosa, anche una ludoteca, anche per i bambini dove si potrebbero lasciare Lasciare mentre magari le mamme si mettono a fare le compere. Ci sono tante cose da poter fare, però bisogna volerle fare. Un colpo duro per i suoi colleghi e per quanti conoscevano lei e la sua famiglia. Sui social già corre il dolore per la perdita di un altro personaggio storico che se ne è andato via troppo presto. La notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Paola Mazzalorso coglie tutti di sorpresa, scritto il sindaco Anna Maria Casini. Era una commerciante storica della nostra città, da sempre impegnata a favore della categoria, per la crescita del settore e la valorizzazione del nostro centro storico. Ho avuto modo di conoscerla come presidente dell'associazione Sulmona Facentro, apprezzandone la determinazione e il carattere battagliero, volto a proporre soluzioni e progetti per la crescita della città. Resta quindi ricordo di una persona forte e determinata che voleva sempre vedere chiaro in tutte le cose. Sarà per il suo mestiere e per i suoi consigli che dava a chiunque bussava alla porta della sua attività quando la vista veniva meno. Alla famiglia Mazzalorso, le condoglianze di Honda TG.